al mio tre vi farò un'imitazione di serze cosmi personaggio del peluccia non è un video di famazione ma un video omaggio di stima nei suoi confronti bando alle ciasce 1 2 3 ma guarda tutto bene stiamo andando tutto bene con la formazione raccistica sta andando bene e io mi impegno per quello che posso e vediamo quello che succede non è semplice fare i conti con questo peluccia che sto allenando con importanza e con rispetto per quanto riguarda la situazione raccistica a breve io metterò 23 punti in più in attacco cercando di dare il meglio e di potenziare la fascia 232 però del mio meglio per quanto riguarda la formazione raccistica peluccia inoltre voglio andare a compattare il piano il reparto di difesa schierando due tre punti che magari mi possano andare a garantire una un ammiramento per quanto riguarda l'assetto attuale della politica calcistica che vado a schierare attraverso i reparti che più hanno importanza relativa al calcio giocato al centro capo invece schiererò una formazione da tre quattro punte tre quattro punte che non saranno diciamo così di importanza lieve ma di importanza molto elevata anche per quanto riguarda quello che sarà il calcio giocato limitazione termina qua vi ringrazio in primis per la visione in secondis per l'ascolto questo non è un video di diffamazione ripeto è un video di stima di ammirazione di rispetto per questo grande personaggio che si chiama serse cosmi personaggio che è attualmente allenatore del perugio a calcio complimenti a lui al grande serse cosmi iscrivetevi al mio canale di youtube chiamato conoscitore italiano commentate fornitemi un vostro parere un vostro giudizio al prossimo video una buona giornata a voi tutti grazie